Questo che sei qui, per trovare tuo padre? No, siamo qui per trovare l'Aquila. Come può un pezzo di metallo contare tanto per voi? L'Aquila non è un pezzo di metallo, l'Aquila è Roma. L'Aquila non è un pezzo di metallo. L'Aquila non è un pezzo di metallo. L'Aquila non è un pezzo di metallo. L'Aquila non è un pezzo di metallo.